Ok ragazzi, Lanciano, Abruzzo, siamo qui con Silvio Luciani, Salone, ragazzi, parruccherando Top Selection, guardate le immagini in sovraimpressione, complimenti davvero. Grazie, grazie mille. Allora, Balmain, quindi non solo extension però ragazzi, adesso ci arriviamo. Sì, non soltanto extension, anzi da quest'anno ho iniziato la collaborazione come fashion trainer per l'azienda e poi dato il periodo è stata soltanto una piccola parte iniziale perché dopo siamo stati fermi, però insomma rinizieremo con dei webinar dove comunque abbiamo il prodotto sia sulla colorazione, sia su quello che è il finish, accessori, extension quindi un po' diverso. Extension, Balmain, la Rolls Royce della categoria. Assolutamente sì. Senza compromessi. Senza compromessi perché giustamente nascono da Parigi nei backstage per i cambi e quindi da lì si fanno una bella esperienza e il materiale è veramente ottimo. Ma extension posso mettere anche soltanto una parte, non è che devo per forza esagerare, cioè nel senso una capigliatura soltanto una ragazza desidera un infoltimento, soltanto in un punto. Oggi come oggi le extension non sono soltanto per avere la massa o la lunghezza, ma anche se uno magari ha una frangia e vuole allungare una parte per raggiungere il taglio o anche semplicemente i laterali che magari un carri pari vuole mettere una simmetria, quindi fa un'applicazione mirata al risultato che uno vuole ottenere. Non è che deve necessariamente quindi esagerare con queste capigliature. No, non necessariamente per forza fare tutta la testa, no, no, assolutamente. Questo è importante. Però io leggo anche che è un centro infoltimento. Cosa vuol dire infoltimento rispetto a un extension? Infoltimento, allora qual è l'esigenza? Che comunque poi ovviamente lavoro anche con altri brand, soprattutto di questo settore come i capelli for you. Salutiamo Fabrizio, lo facciamo Fabrizio, proprietario dell'azienda. Simon Fratini e anche con David Prozzo e loro praticamente abbiamo diversi sistemi, io ho anche diversi clienti con questo tipo di impianto e bisogna fare una consulenza perché sono diversi sistemi, dalla membrana capillare a quello che sono diciamo delle alopece o calvizie totali, parziali e totali e facciamo dei calchi proprio su misura in maniera che andiamo anche a posizionare là dove vogliamo la scuola. Ti guarda malissimo. No, l'occhio mi butta sulla calvizia. Perché vuole che dici adesso entro e esco nuovo. Non ti faccio la consulenza. E quindi comunque insomma è più che altro un prestigio perché dopo tanta esperienza che ti viene nel mondo del parrucchiere, quindi a parte fare da formatore, ma poi ti viene di fare qualcosa in più per le esigenze che la cliente vogliono risolvere degli inestetismi e quindi vedi il risultato ancora più bello non soltanto dal lato del fashion ma dalla parte un po' personale della persona. Personale, l'autostima. Sia uomo che donna, nessun problema. Sia uomo che donna, assolutamente. Molto di più le donne perché l'uomo magari si adegua all'idea di portare un pelato. Plastico, rappato, pelato. Mentre per la donna è un po' più complicato perché l'abito come sappiamo è come, cioè il vestito, se per sé il capello è come un abito quindi è fondamentale magari questa riuscita. Il classico, diciamo, timore è manutenzione, mare, piscina, sole, inverno, caldo. Ma diciamo che la tecnologia va avanti, quindi adesso sono dei metodi che sono naturali, quindi uno si può passare anche proprio così la mano tra i capelli, hanno una durata di circa 40 giorni, dopodiché ci vuole una manutenzione un po' come quando uno va a fare il taglio dal parrucchiere, quindi va lavata e va diciamo sistemata e igienizzata. Ok, ma puoi farlo a casa o devo venire da me dove ci vuole diciamo un certo che di prodotto per ogni mese più o meno? Sì, 40 giorni massimo. Una decina di volte all'anno? Però poi si può fare la doccia, può andare al mare, possono sentirsi liberi di avere i propri capelli e non un corpo estraneo. Vedo le persone con tanti capelli, troppi capelli, queste diciamo protesi così, posso mettere anche meno capelli, posso mettere una cosa che sembra per assurdo, oppure passare da una situazione, mettiamo come la mia e il giorno dopo troppi capelli diventa un po' troppo. Ci posso fare un percorso? C'è sempre un'immagine diciamo graduale e soprattutto anche con l'azienda possiamo scegliere la percentuale di intensità di capelli, quindi siccome all'inizio uno deve prendere l'abitudine con quello che indossa, sono anche io, cioè diciamo come consulente a dargli il giusto indirizzo, ovviamente non gli farò mai un effetto parruccone, capito? Esatto, perché io ho 50 anni e non posso avere i capelli di diventi, assolutamente e soprattutto anche il tipo di capello deve essere diciamo con una colorazione molto naturale, anche sull'effetto del bianco, il bianco non va coperto, il bianco magari va messo nello stesso punto che serve per dare quel tocco di naturalezza, per dirti. Ecco quindi c'è massimo naturalezza, perché si vedono in giro delle cose che non si possono vedere, del fai da te, ma io lo dico perché anche io ho l'occhio vivo e parli che lascia stare, va bene, io so che però tu sei un maestro acconciatore, chiamiamolo così dai, così mi definiscono, quindi progetti futuri, ho visto qualcosa al volo, diciamo che mi definiscono questo perché ho avuto anche un grande maestro, ho avuto la fortuna di vincere un po' per passione, un po' per diciamo sai l'attimo, a 18 anni il premio Sergio Valente, quindi mi ha portato a collaborare con lui nei vari backstage dei grandi eventi e prendere ancora di più l'arte di lavorare certi dupè e che il mondo è differente dal salone, perché nel salone magari fai uno studio proprio privato, nel backstage c'è uguale un po' più di rapidità e quindi insomma poi progetti futuri, con il tempo l'obiettivo è quello di tramandare con una formazione, con diciamo quello di esperienza e anche di diventare un brand e quindi di arrivare sempre di più nel costruire un'immagine ad hoc per il futuro, esatto, sì. Poi io ho curiosato un po' sul tuo Facebook e Instagram, lavori patteschi, quindi chi ha i capelli, chi c'è, perché non è che in realtà lavoriamo solo chi se non ce li ha, ma anche, vedo tra l'altro all'interno del salone bellissime donne, state facendo dei lavori importanti, specialità della casa oltre a infoltimento e extension? Ma guarda, un po' tutto perché mi piace proprio il mio lavoro in generale, quindi da partire dalle colorazioni, da quello che sia il taglio, in genere normalmente ci sono anche i clienti che hanno il suo parrucchiere, che magari si fanno delle pieghe e vengono da me per farsi il cambio look, quindi io ho una mentalità aperta, non è che magari vada un altro collega, non l'accetto, anzi. Dì perché voi i parrucchieri siete un po' cattivelli, chi è che ti ha fatto questi lavori, classica. No, no, mi piace questa cosa anche perché magari mi identificano proprio per la svolta, per il cambio look e quindi sono quei tipi di clienti che ti si affidano e per la serie fai tu, quindi mi piace questa cosa. Va bene, allora, classica domanda, covid, noi siamo qua fuori senza mascherina perché così possiamo farlo. Mantenendole distanze. Mantenendole distanze, dentro c'è un protocollo modello Alcatraz, Area 51. Ho rispettato tutto nelle norme. Allora ti dico, da quando c'è stato questo covid sicuramente ha fatto sviluppare meglio quello che è la funzionalità del mio salone. Come hai visto ho due piani, quindi una volta magari l'ingresso era da qui, adesso c'è il percorso, quindi si entra da sotto, c'è l'accettazione, tutto imbussato col sottovuoto, sanificato. Un'aria esterna anche giù. E' quando abbiamo qualche cliente in più per far togliere la mascherina, quindi uscire dalla parte esterna. Ma poi ti dico, cioè in questa fase ovvio nel nostro settore rimangono un po' le cerimonie. Però devo dire che abbiamo fatto un lavoro più di nicchia, nel senso che la cliente viene, abbiamo anche una VIP deluxe, quindi che vuole prendere il servizio di privacy, non va di fretta. Cromoterapia. La cromoterapia, si godo nel momento, soprattutto c'è stata una voglia, abbiamo fatto un lavoro quasi tutti i giorni la vigilia di Natale, quando abbiamo riaperto. Esatto, perché dopo tutta la parte finale c'è stata una voglia di rinnovarsi, di dedicarsi del tempo, nel fare i servizi e soprattutto, magari anche se è mancata un po' la cliente settimanale nel fare la piega, si sono presi i prodotti e hanno continuato comunque con un buon trattamento a casa. Quindi io ti dico, magari sono tra i pochi, ma sono sereno, sono contento del lavoro fatto, soprattutto che si è rispettato una bella energia, quindi anche con la voglia di ripartire. Tanto tu mi dicevi che lavoravi già prima su appuntamento, quindi non hai cambiato per appuntamento, ho sempre messo il kimono monouso, quindi sono piccoli dettagli che magari abbiamo promosso, perché magari chi non è cliente non conosce il nostro tipo di servizio, però diciamo abbiamo avuto sempre un certo chiede d'immagine. D'immagine, quindi hai messo solo la mascherina fondamentalmente, il gel, qualcosina in più, esatto. Il gel. Ecco, è cambiato qualcosa nella prenotazione dei servizi? C'è più servizi altospendenti, magari particolari, meno pieghe oppure più o meno? Sì, forse meno pieghe, ma ti ripeto, secondo me è legato al fatto che non ci sono le cerimonie, quindi magari essendo anche coinciso un po' tra giugno e agosto che il periodo estivo, la gente va al mare, quindi magari, ti ripeto, si vengono a fare il taglio e il colore, poi non c'è l'occasione d'uso per andare a una cerimonia, magari... Mi arrangio a casa in qualche modo... Oppure magari si fanno una piega un po' più naturale, penso che adesso già da settembre la gente settimanale si ricomincia, sì, sì, è una prassi un po' periodica che capita ogni anno. Perfetto, va bene, che altro dire, ragazzi, parruccando Top Selection, un salone che parla da solo, riferimento per la zona direi, assolutamente, e passate di qua perché sarete sicuramente accontentati e troverete quello che fa per voi. Grazie a te per questa intervista e ciao a tutti.